E questa volta la nostra ora solare bentrovati, grazie ancora una volta per essere con noi, la dedichiamo tutta a lei, alla nostra Gina Lollobrigida, alla Lollo così come lei è stata conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo. Gina Lollobrigida, una delle donne più belle del grande schermo. La nostra ora solare è dedicata a questa grande artista proprio nel momento in cui nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma le stanno dando l'ultimo saluto. Salutare Gina Lollobrigida ci dispiace tanto perché è vero, nessuno di noi è eterno, ma insomma ci sarebbe piaciuto ogni volta allungare un po' di più il tempo. Salutarla significa da questo momento in poi ricordare per sempre che cosa lei sia stata e che cosa abbia rappresentato. Sara Ricordati è già nostra amica, giornalista e critico cinematografico per gente, grazie di essere tornata qui. Grazie a voi. E la nostra Silvana Giacobini, giornalista, conduttrice televisiva, direttore. Ben trovata Silvana, grazie. Un saluto caro Paola a tutti. Allora Silvana Giacobini, Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida ha due punti. Come la dobbiamo ricordare? Che donna è stata? Allora, donna è diva. Diva perché è stata veramente una diva internazionale, riconosciuta da tutti i paesi. Pensate che in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Argentina, ovunque, anche in Estremo Oriente, era conosciuta e amata. E poi la donna, donna che è un po' i personaggi che ha interpretato. Cioè una bersagliera nella vita vivace, forte, diretta, anticonformista. Silvana, ti interrompo solo un attimo. Questo molto anche nella vita privata e negli amori. Ti interrompo solo un attimo. Anticonformista, una donna molto moderna, molto attuale, Sara. È detto di una signora che aveva superato i 90 anni. Insomma, in un tempo in cui, per carità, diventare dive voleva dire essere dive. Però diventare e restare dive, come è stato per lei, ecco, era un lavoro, un lavoro non semplice. Lavoro non semplice. Lei ha sempre avuto un carattere molto forte, molto spiccato. Quello che emerge fin da subito dai suoi primi film, la famosa bersagliera di Panamore e Fantasia, indimenticabile questa sua grinta, questa energia illuminata da un sorriso stupendo. Però sempre molto testarda. Lei faceva quello che decideva, era manager di se stessa, quando le proporsero il terzo film di Panamore, lei disse no, io non lo faccio più. Quando poi andò in America e iniziò a capire che si trattava quasi di una gabbia dorata, lei tornò in Italia. Era una donna di grande carattere, in questo senso molto moderna. Non era facile dire di no? Non era facile dire di no, non era facile essere una donna anche da sola in quei tempi, in quel mondo. Sicuramente grande indipendenza, sì. E poi ha sempre anche sostenuto le cause delle donne dopo, quando è diventata più grande e ha smesso di fare l'attrice. Non ha mai smesso di essere dalla parte delle donne. Io voglio ringraziare il nostro caro grande amico Maurizio Davanzo e l'agenzia IPA di Milano per le fotografie. Marilyn Monroe, una volta che Gina Lollobrigida arrivò in America e la incontrò, le disse, mi chiamano la Lollo americana. E questo fece molta impressione, ovviamente piacevolissima a Gina, che scoprì l'umiltà di questa grandissima diva d'oltreoceano. Perché ricordiamo che Marilyn Monroe è stata un sex symbol, è attrice anche brillante e molto talentuosa, cosa che con la sua bellezza, che è avvenuta anche per Gina Lollobrigida, forse all'inizio anche per Sophia Loren, copriva quello che era il talento autentico che le ha portate poi nella vita e la lunga carriera a interpretare tanti personaggi. E diceva Gina che aveva scoperto anche la fragilità di Marilyn Monroe. E tutto sommato la compiangeva, aveva tenerezza, perché sapeva che la sua forza non era la medesima di una grande diva che poi sappiamo anche ha concluso la sua vita in maniera drammatica e incomprensibile tuttora. Drammatica e incomprensibile tuttora. Ancora Silvana Giacobini e poi vengo subito a stare ricordati. Gina Lollobrigida, intanto ribadisco queste fotografie, questa capacità della Lollo che poi ha questo cognome tagliato, della Lollobrigida di essere sempre regina della scena, sempre presente, aveva una risata veramente indimenticabile, era una donna così diretta. Lollobrigida e Sofia Loren. Rivalità o era una rivalità soltanto costruita ad uso per quel periodo? Sai, in quel periodo la rivalità Callas-Tebaldi nel campo lirico, Coppi-Bartali, quindi Luccherini che era veramente sagace, era un public relation man straordinario, si inventò per tirare su la carriera di Sofia, perché essendo più giovane cominciava più tardi. Quindi la vera diva in quel momento era Gina Lollobrigida e essere rivale di lei significava salire anche nella scala della notorietà. La fortuna di Sofia, forse, fu proprio quel rifiuto di cui parlava appunto il critico, o la critica, come si dice, cinematografica. Cioè rifiutare pane, amore e gelosia, terzo episodio, che veramente l'aveva evidentemente annoiata. E Sofia ebbe un grandissimo successo e con quel ballo in cui faceva la mossa e si vedeva veramente quanto sexy fosse, ha vinto poi la partita e è andata ancora più avanti. Allora, quanto sexy fosse. Abbiamo, e chiedo nuovamente al nostro Alessandro Tresa in regia, di riproporre quella doppia fotografia, no? Sono... Sara, ricordatevi, ma quanto sono belle. Sono straordinarie. Ma quanto sono belle. Bellissime. Inarrivabili, sì certo. Noi parlavamo così al cinema del mondo, in quel tempo, in quel periodo, no? Giocavamo queste carte. È grande emozione, rivederle così giovani, è bello pensare che possiamo ricordarci la Lollo sempre così. È così, ti ringrazio di questa cosa che dici, perché è ora, no? È un momento in cui comunque ti stacchi dalla persona fisica. Dalla persona, certo. Però rimane... Entra nel mito. Sì, rimane il mito, forse nel quale lei già era entrata, ma... Anche questa sua capacità di arricchire la sua figura, insomma, si dice ma te sei vestita come la Lollo Brigida, nel senso che... Anch'io oggi ho messo gli strassi in suo onore. Il suo onore. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Si vestiva sempre in questa maniera. Poi aveva un amore per i gioielli, aveva queste parole favolose, questi vestiti, anche da grande, diciamo, anche adesso. Esatto, forse ancora più da grande. Vestiva degli abiti straordinari, proprio da diva da altri tempi. Allora, dunque, arriviamo tra... Prego, prego, Silvana. No, dicevo che poi cuciva da sé. Ricordiamo che non era una sartina, era una grande sarta, perché comprava gli scampoli più luccicanti possibili e costruiva, e si tagliava e cuciva gli abiti che poi indossava. Allora... non è una leggenda, è una verità, eh? È una verità e chiudiamo, tra un istante arriviamo. Questa cosa l'ho saputa dal grandissimo Carlo Bixio, mai abbassato... Chissà, si sono ritrovati. Lei comprava anche questi scampoli per foderare le scarpe che metteva poi con il vestito imbroccato, la scarpa doveva avere lo stesso tipo... Motivo. Lo stesso motivo e lo stesso tipo di stoffa. Ci vediamo tra un attimo? Sì? C'è una clip prima, mandiamo la clip allora. Ah, ah, parro! Buongiorno, brigadier. Salutiamo, bersagliera. Vi servono un poco di legno. Domandalo a Caramella. Caramella è la nostra domestica. Anzi, d'ora in poi sarà la sua. Caramella, è il nome, mi piace. Ah, parro! Che bella ragazza! Quella è un diavolo scatenato. Meretricia? No, è una ragazza un po' ardita. Sovversiva? No, ma forse è la troppa miseria metterle il diavolo in corpo. La chiamano pizzicarella la bersagliera. Ampizzicarella la bersagliera. Ah! Parro! Ah! E qui non sai tra Dessica e lei chi amare di più. No? O Dessica che passa tutto il tempo girato. Però quello è l'istante in cui appare la bersagliera. Quello è l'istante indimenticabile. Riescono a portare davvero una dose di grande ironia e leggerezza in quel contesto del dopoguerra anche di miseria che era stato raccontato così bene dal neorealismo invece in questo film riesce anche a essere più spiritoso più leggero con solo il 53 e lei così giovane riesce a tenere testa quest'uomo straordinario grande il doppio di lei chiaramente infatuato ed è davvero eccezionale ed è da vedere, vedere e rivedere ci fermiamo solo per un attimo però continuiamo con Ginalollo Brigida dai arriviamo Allora Solare stiamo ricordando con tutto il cuore e con tutto l'amore del mondo Gina Lollo Brigida con Sara Ricordati giornalista di gente critico cinematografico e collegata dagli studi di Milano i nostri studi Silvana Giacobini Silvana Giacobini giornalista, scrittrice conduttrice televisiva grazie, grazie, grazie prima di riprendere il filo del nostro racconto la nostra Marta Manzo che è andata ieri alla Camera Ardente allestita in Campidoglio guardiamo io ho lavorato nel Pinocchio di Comencini era uno delle tante comparsi nel periodo della scuola Gina era una persona stupenda umana e sincera una grandissima attrice e volevo ricordarla e darla un ultimo saluto penso che abbiamo perso qualcosa di importante un pezzo di storia ecco un pezzo di storia dell'Italia se ne stanno andando ad uno a uno delle persone importanti Gina Lollo Brigida è una di quelle per l'artista che è stata nella sua polietricità e ovviamente per il suo essere nel mondo dell'arte anche cinematografica una stella un punto di riferimento per tutti io sono una cinefila e poi amo soprattutto il cinema un pochino agé diciamo Gina Lollo Brigida era una delle mie attrici preferite soprattutto perché è stata capace di dopo aver avuto il periodo di fulgore eccetera di dedicarsi alle altre attività artistiche sue proprie perché poi si è rivelata un artista tutto tondo una delle pochissime dive che noi abbiamo nel nostro paese è stata un'interprete straordinaria e anche è stata una donna molto indipendente, autonoma e che non deve nient'altro che a se stessi per la sua carriera io ho tanti ricordi fortunatamente che posso costruire nel mio cuore veramente per me era immortale era sempre sveglia dovevi essere vera dovevi raccontarle bene le cose dovevi dire quello che accadeva perché comunque lei ci teneva molto e poi si fidava però dovevi essere chiara perché lei doveva essere convinta di quello che stava facendo ma io mi ricordo c'è una persona di una puntualità incredibile che arrivava un minuto sempre prima di me lascio solo una cosa la simpatia e la bellezza e il capolavoro che ha fatto nei film per me il palavoro e il fantasia è stato migliore uno dei classici in cui lei ha brillato ci lascia un mondo bellissimo che forse non ci appartiene più però spero che la sua eredità la sua capacità artistica possa essere ad esempio alle attrici di adesso che ce ne sono adesso anche molto brave ed eccoci dunque qui Gina Lollobrigida Silvana Giacobini che cosa ha rappresentato per le donne italiane questa diva? guarda all'inizio della sua carriera io penso anche una speranza un ritorno a una gioia che sembrava perduta perché eravamo subito dopo la guerra quindi c'era molta miseria in quel momento e le donne pensavano più al cibo da trovare che a vestirsi o a vivere magari una storia d'amore l'amore ha sempre vinto devo dire anche nei momenti più difficili e poi mano a mano è diventata talmente popolare importante dal punto di vista internazionale da rappresentare anche un pezzo d'Italia era un'ambasciatrice del nostro paese e quindi portava una forza una vitalità e una come dire un'importanza che si pensava forse che l'Italia tutto sommato dal punto di vista socio-politico non avesse a quel livello cioè di essere totalmente ammirata apprezzata universalmente Sara Ricordati giustamente diceva poco fa dicevamo non in onda è rimasta quella diva per tutta la vita anche in quel suo modo di vestire ma quel suo modo di vestire era lei cioè ha dimostrato che sì signore ho 80 anni e voglio mettermi tutti i lustrini possibili ed immaginabili era un modo anche per sdoganare tutte le donne del mondo a fare quello che più le appassionasse ma certamente sì e certamente ha continuato a mettere i lustrini anche a 90 anni fino alla fine è arrivata a 95 quindi davvero eccezionale anche in questo nel mondo del cinema lei ha affiancato e lo vedremo tra poco grandissimi attori ha incontrato grandissimi registi con Comincini proprio c'è un inizio e una conclusione addirittura di carriera anche lì ha dato ha messo la sua firma il suo autografo certo ha lasciato la sua impronta ma come dicevamo prima rispetto anche al fatto che si confezionava i vestiti aveva tantissimi talenti per esempio nel film la donna più bella del mondo cantava da soprano ah era sua la voce era sua la voce ah però nella storia di Lina Cavalieri sì nella storia di Lina Cavalieri nel film Trapezio si esibiva anche sulle corde eseguiva anche dei movimenti acrobatici quindi questo è un film americano quindi era davvero una donna dai tanti una donna speciale Trapezio con Bart Lancaster Tony Curtis se non vado errato da non perdere di Sara Ricordati esce il numero di gente in edicola venerdì prossimo questa lunga carrellata di una di una grande vita c'è questa fotografia la vedete quella con le valigie i bauli cioè 30.000 bauli come si addicono ad una diva una donna una donna che ha fatto tutto questo Sara e lei è stata è riuscita a essere da sola tutto questo sì perché poi è stata anche fotografa lei da ragazzina aveva studiato all'Accademia di Belle Arti e quando a un certo punto negli anni 70 aveva superato una certa età e si è praticamente ritirata dalle scene ha continuato a volersi esprimere facendo la scultrice per cui amava questa arte della scultura e facendola fotografa con mezzo col quale ha realizzato anche degli scoop incredibili per esempio era andata a Lavana ha intervistato Fidel Castro l'aveva fatto naturalmente innamorare poi era uscito il servizio sul Time pubblicato dal giornale Time quindi grandissima stima anche in quel campo anche in quel campo Silvana Giacobini la tua la tua Gina Lollobrigida com'era? come la ricordi? il tuo ricordo? guarda io ho ho una direzione di gioia dieci anni di chi e poi diva e donna guarda veramente è una lunga carrellata di ricordi a Roma a Monte Carlo in situazioni una diversa dall'altra la più recente addirittura a Milano in cui più fragile sempre ben truccata molto bella per la sua età veramente il dono della bellezza l'ha accompagnata attraverso i decenni e mi ha anche intenerito e con però battute anche simpatiche veramente è stato un incontro tenero strette l'una all'altra per molto tempo sedute una vicino vicino all'altra e sai è una donna eccezionale artista lei avrebbe preferito essere ricordata come grande scultrice oltre che come attrice e diva internazionale e ci teneva e diceva che aveva rinunciato a quello che lei chiamava virgolette la moda dell'arte anche quando lei aveva cominciato a studiare alle belle arti in nome di quello che era il suo credo nella bellezza e come intendeva lei l'arte quindi anticonformista a scapito anche magari di un successo concreto immediato proprio in nome di quello che era la sua volontà e la sua scelta l'ha dimostrato nel bene e nel male per tantissime volte e per tantissimi anni ricordiamo anche lo scontro incontro amore con Barnard certo il flirt con Castro che poi magari non c'era ma era stato molto utile in quel momento anche per il lancio dell'intervista che aveva fatto nel caso non ci sia stato Fidel ci è rimasto malissimo parliamone allora scultrice quello che è certo è che il buon Dio l'aveva scolpita proprio bene sapete quando si dice è stata fatta con tutti i crismi ne sa qualcosa l'avvocato Vittorio De Sica che nel film altri tempi di Alessandro Blasetti la deve difendere e la difende così che meraviglia la colpa non è di Maria Antonia no la colpa non è mia la colpa è vostra colpa dell'arida legge arida legge o siamo aridi noi che non sappiamo interpretarla perché la legge impone sì per un verso di 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 risparmiare imbattire giustizia di condannare questa donna di allergastro a vita ma d'altra parte non è questa stessa nostra legge che prescrive siano assolti i minorati psichici ebbene perché non dovrebbe essere assolta una maggiorata fisica come questa formidabile creatura e io spero e io spero che Vittorio De Sicale sia andato incontro dicendole e continuando ad urlare questa maggiorata fisica Sara ma che meraviglia è mai questo questo pezzo è stupendo è indimenticabile è divertentissimo e lui ha cognato quel termine delle maggiorate che poi ha contraddistinto a tutte le attrici di quell'epoca è rimasto e lei in tutta questa scena avvocata è una limita mite 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 però effettivamente ti trovavi la Lollobrigi da davanti non era voglio dire cosa di tutti i giorni carriera indimenticabile con 80 film più o meno girati 7 Davide Donatello vinti un Golden Globe due nastri d'argento insomma il cinema l'ha molto coccolata il cinema l'ha amata tantissimo anche negli Stati Uniti e anche nel mondo perché poi quando ha lasciato Hollywood ed è tornata ha continuato a lavorare in tantissime produzioni internazionali e ha ricevuto moltissimi premi il Golden Globe che dicevi sì all'epoca si chiamava la migliore attrice del mondo assegnato dalla stampa estera a Hollywood quindi era un'incoronazione straordinaria poi ha vinto il Davide Donatello alla prima edizione dei David nel 56 quindi nel 2006 50 anni dopo le hanno dato il David speciale per ricordare anche quel momento così importante quindi lei era davvero sì era una superstar era una superstar Silvana Giacobini che lo dico di cuore non si dava le arie cioè lei era la Lollo non ci sono dubbi in Francia disegneranno una linea di reggipetto per signora reggiseni chiamati Lollo o Lollò come usano Lollò Lollò lo posso dire questo beh guarda l'intelligenza non della Ciociara perché sembra riduttivo poi sembra anche molto ghettizzare no l'intelligenza è solo in una regione però era quella genuina autentica anche di chi aveva sofferto la fame purtroppo anche questo liaison molto simile la legava a Sophia Loren che quando era una ragazzina doveva veramente pensare a che cosa mangiare perché non ne girava tanto di cibo a casa sai chi ha vissuto nelle difficoltà rispetta chiunque perché a meno che non sia proprio un essere umano un po' diverso dai soliti ma sapere di aver sofferto permette di rispettare la sofferenza di tutti e di non umiliare nessuno e questo credo che sia molto importante anche da parte di una grande diva molto ricca che amava i gioielli e che appunto amava i lustrini anche perché doveva apparire diva oltre che essere una donna in casa che poi era una villa bellissima una villa sull'appia la villa da diva come andava Sara no sarà ricordati insomma era anche una se non era Hollywood sul Tevere se era il grande cinema poi ricordiamo noi siamo stati e continuiamo ad essere maestri di cinema però all'epoca se eri una grande diva dovevi avere no la grande era tutto grande tutto tutto spettacolare tutto spettacolare sicuramente spettacolare sapeva ballare anche Gina Lollobrigida tutto spettacolare in questo ballo del 1961 con Rock Hudson in questo film torna a settembre un film proprio l'America che incontra l'Italia il film ambientato in Liguria e come far a non innamorarsi di una donna così come fare tanta roba anche se era piccolina ma guardatela un po' voglio dire è di una bellezza un gioiellino un gioiellino Sara bellissima bellissima quanta strada aveva fatto da quella ragazzina che ballava la tarantella in pane amore fantasia scalza con i codini con le treccine con le treccine che pure l'energia è rimasta la stessa adesso è una donna elegantissima raffinata con l'abito di lustrini e il grande divo americano quindi ha fatto lei raccontava che Sinatra fosse andata a prenderla sotto la scala dell'aereo Sinatra Frank Sinatra ma lei poteva narrare tantissimi aneddoti legati a questi personaggi perché molti anche l'hanno corteggiata come anche il grande produttore Hughes che voleva tenerla lì a Hollywood Orson Welles le ha dedicato un documentario un documentario che poi è scomparso è stato ritrovato hanno proiettato a Venezia negli anni 80 però lei a quel punto non lo voleva più vedere e quindi l'ha fatto sparire di nuovo quindi il carattere veniva fuori sempre il carattere non le mancava allora hai citato la tarantella pane, amore e gelosia se non vado se non vado errata e Comencini Comencini teniamo il nome di Luigi Comencini sempre ben presente la vediamo ancora la nostra Gina Lollobrigida la Lollo proprio lei guardate coraggio ballate insieme a me ballate la saltarelle cubare 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 ballate insieme a me forza 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 per le dupe dell'aria un là zompa 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 non te devi far stancà salta 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 cevo l'emme innamora forza 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 cevo l'emme embriaca sta figlia tua è un diavolo scatenata proprio ye 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 tra le zompe non girette ye 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 la manuccia dà mamme ye 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 se ci scappa non bacette ye 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 fa la balla in tema a me ye me voglio fare lo sposo e all'amore voglio fare gire salta salta gira ye ye me voglio innamorare coraggio ballate in tema a me ballate la saltarelle combare 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 ballate la gente allora sarà ricordati e vado subito da Silvana Giacobini sì è la stessa donna sofisticatissima che ballava un istante fa con Rocadson era brava era brava era anche una bravissima attrice era anche una grande attrice giustamente era un'attrice quindi sapeva interpretare i personaggi e lei ha anche spiegato in che modo recitava lei negava di recitare diventava il personaggio viveva quindi come avrebbe vissuto con quel carattere quel tipo di mente quel tipo di emozioni il personaggio che le avevano offerto e quindi non recitava era quella era capisci diventava ed è un modo straordinario anche per essere bravi assolutamente poi vabbè uno si godeva anche i controsguardi di Vittorio De Sica ma questa è un'altra storia Le avventure di Pinocchio è un meraviglioso sceneggiato Rai del 1972 con un immenso Nino Manfredi tutti grandi ritroveremo anche Vittorio De Sica Franco e Ciccio Gatto e Volpe lei è per Luigi Comencini la fata dai capelli turchini diciamo che chiude qui un cerchio con questo regista che che l'aveva resa grande e poi le chiede di interpretare questo ruolo questo ruolo che è l'ultimo ruolo iconico nel 1972 nella serie di culto che ricordano tutti e e lei anche qui ha offerto un'interpretazione memorabile perché è stata un po' la mamma la mamma d'Italia in quel momento con il suo Pinocchio tra l'altro c'è qui un curioso aneddoto perché lei e il ragazzino Andrea Balestri mi pare non andassero affatto d'accordo perché lei aveva sempre anche questo carattere un po' irruento e quindi ci sono stati degli sconti lei diceva Comencini mi ha reso una diva ma non mi protegge da questo monello ed era Pinocchio però quello doveva fare il mestiere suo doveva fare il mestiere suo ognuno faceva il proprio poi una volta che avevo intervistato Balestri mi aveva raccontato che non riusciva a piangere sulla tomba di questa fata turchina perché questa attrice gli era stata così antipatica insomma sì ecco non era entrato nel ruolo fino in fondo non è vero perché è stato uno splendido quindi insomma uno splendido sceneggiato e anche lì tantissimi aneddoti e lei ha un po' chiuso la sua carriera perché poi non ha più fatto ruoli così importanti Silvana Giacobini sì quindi Paola tutto sommato questa donna così grande anche attenta a dare rispetto a tutti in realtà non riusciva a trattenersi neanche con un ragazzino monello perché sicuramente le avrà mancato di rispetto più volte linguacce a parte che gli avrà fatto devo dire che è molto divertente vederla sotto quest'ottica così diversa dalla iconica della grande diva e tutto sommato anche le difficoltà che si possono incontrare sul lavoro le trovano le impiegate le casalinghe e anche le dive quando hanno un pinocchio che gli gira intorno brava Silvana è così allora noi ci fermiamo soltanto per un minuto restano con noi sarà ricordati resta Silvana Giacobini io voglio fare un grazie perché sicuramente si saranno ritrovate si abbracciarono a Sanremo ad un'altra grandissima Anna Marchesini quando ti imitano vuol dire che sei diventato veramente grandissima e l'imitazione che Anna Marchesini regalò di Gina Lollobrigida rimane come posso dire imprescindibile l'una dall'altra e ci fu questo abbraccio meraviglioso tra la vera Lollo e la finta Lollo due grandi grandissime artiste ci fermiamo solo per un attimo ma tra poco andiamo con un racconto fotografico e non di una grandissima diva e di un grandissimo fotografo di quella dolce vita tra poco allora Solare Gina Lollobrigida chiedo di andare subito a questa fotografia è una foto della Lollo però questa foto l'ha scattata un uomo davvero speciale Carlo Riccardi decano dei fotografi romani tuttore artista il primo paparazzo che ha creato la dolce vita insomma che ha costruito la dolce vita anche lui ha chiuso gli occhi poco tempo fa ma Maurizio Riccardi è qui in studio con noi suo figlio amico caro e persona che ha accettato di raccontarci Gina Lollobrigida con Sara Ricordati che per gente non è solo giornalista ma anche critico cinematografico e Silvana Giacobini collegata con noi dagli studi di Milano grazie ancora Maurizio Riccardi papà papà che cosa noi ci diamo del tuo Maurizio perché ci conosciamo da tanto tempo che cosa ti raccontava di questa grande bella bellissima diva allora lui aveva una passione per la Lore ma perché erano nati in paesi vicini cioè lui è nato a Volevano Romano e la Lollo era nato e poi mi raccontava anche quella era la terra delle balie per questo diceva che erano le formose quindi da Olevano venivano a Roma per allattare i bambini e avevano una passione insieme tutte e due avevano l'arte nel sangue nel senso papà ha cominciato subito a dipingere lei fotografava infatti ci sono delle curiosità che belle anche perché ho scoperto che a otto anni la Lollo ha mandato un disegno a Topolino e gliel'hanno pubblicato ma pensa tu è una cosa ma incredibile infatti lei amava l'arte quando con papà avevano questa affinità perché papà era già nel mondo dell'arte era amico di scultori fazzini manzù e il suo maestro di scultura lei sempre dice che era manzù quindi quindi insomma si chiacchieravano ma è vero che oltre a questa comune passione per l'arte Gina Lollobrigida quando tuo papà la fotografava chiedesse com'è quell'obiettivo con il quale mi stai fotografando amando la fotografia lei faceva domande era molto curiosa anche perché all'epoca le macchine erano le Rolleflex quindi erano queste macchine grandi macchine grandi mille grandi dive e quindi chiedeva ma come fa gli dice io faccio le foto però non mi vengono lui gli dava dei consigli e quindi poi dopo lei nel 70 ha cominciato a fare delle mostre fotografiche anche cioè ha girato il mondo 24 paesi 24 paesi fotografando Silvana Giacobini annoiva sul topolino sul disegno sì perché no non solo la raccontava lei orgogliosissima perché ovviamente essendo bambina avrà avuto un'enorme soddisfazione e poi lei con la matita era magica perché aveva ritratto e le stava tanto a cuore anche la mamma e per lei era un ricordo straordinario legato a una primissima giovinezza quando neanche pensava che esistesse il cinema un altro po' ecco devo dire che i grandi talenti di Gina erano numerosi e uno era anche quello nel campo fotografico anche la curiosità che lei aveva la portava a vedere inquadrature che magari potevano sfuggire all'occhio dell'essere tranquillo del cittadino normale e questo anche era singolare e sai Gina ricordo anche che aveva il gusto della bellezza non solo propria ma anche quella delle altre donne ecco perché era un artista nel cuore e le piaceva scolpire più che ritrarre la bellezza femminile ed è rimasta famosa anche l'immagine molto sexy di una Mary Monroe che lei ha interpretato nuda oppure anche una Paulina borghese che poi aveva interpretato lei mi manda un po' il Canova allora esattamente aveva fatto uno dei suoi film più importanti amore grazie Silvana amore per la bellezza Sara ricordati ci parlava ci raccontavi Sara di questa sua capacità di 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 scegliere no insomma i suoi vestiti erano proprio suoi Silvana Giacobini diceva cuciva benissimo c'è una foto di Carlo Riccardi che credo ci sia che la ritrae mentre lei sceglie stoffe e guardate che aria come dire piena intensa che ha era a tutti gli effetti forse in questo Sara il suo essere diva e saper poi mantenere un amore per le cose di casa tra virgolette era un po' tutta sua no era una specialità sì che aveva solo lei perché nessuno sapeva fotografare scolpire cucire esatto era veramente straordinaria penso che anche a livello mondiale siano poche le persone così talentuose dai mille talenti appunto e poi forse lei la aiutava anche a mantenere una concretezza si parlava anche di questa sua lunga carriera è rimasta diciamo fulgida fino adesso perché ha saputo anche reinventarsi grazie a questi suoi molti talenti perché quando appunto ha visto che i ruoli diminuivano è diventata una brava fotografa quando poi voleva sapeva faccia le sue mostre per cui è riuscita davvero anche in questo è un modello per le donne essere sempre capace di mantenere la propria identità la sua modernità essendo nata in un tempo in cui quasi le donne non lavoravano esatto tutto questo non esistevano ma le donne facevano figli e ne farà solo uno Gino Lollobrigida ma Maurizio Riccardi ci ha portato una fotografia che è stupenda voi dite la foto della Lollo col bimbo in braccio no è una foto molto è molto romana o no questa fotografia Maurizio è molto romana ma può essere anche partenopea nel senso che ha partorito la Lollo e questa è la notizia e sotto assolutamente romano partenopea andrebbe benissimo questi erano i numeri sì erano i numeri che davano che suggerivano ma la notizia era ha partorito la Lollo ha partorito la Lollo era anche quello di cogliere quello che avveniva nella società attraverso l'amore per le dive e i particolari quindi ci sono un sacco di foto questo è dive a 365 gradi tutto intorno ad una diva tu l'hai conosciuta io l'ho conosciuta l'ho conosciuta perché partecipava al festival del cinema l'abbiamo incontrata più volte era un personaggio particolare diretto io direi diretto simpatico rimaneva impresso perché ti guardava e ti diceva come sto perché il bello era dentro di lei che bello lei aveva il bello che era dato appunto dalla cultura dalle cose anche nella fotografia lei ricercava il bello quindi anche il suo apparire doveva essere sempre bello doveva essere sempre bello 1955 non credo di sbagliarmi il film ha un titolo che arriva diretto la donna più bella del mondo proprio quella Lina Cavalieri che venne definita la donna più bella del mondo sentite la voce della Lollo oltre che guardare di spagna solo la bella regina con dell'amor tutti mi dicono stella stella di vita splendor di spagna solo la bella regina con dell'amor tutti mi dicono stella stella di vita splendor stella stella di spagna solo la bella E' sua la voce, sarà ricordati, è sua. Sì, sapeva anche cantare con una voce da soprano, quindi straordinaria. E' questo il film che le valse il Davide Donatello nella prima edizione dei Davide Donatello, quindi che dire, applausi. Noi eravamo qua e dicevamo bella, 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 ma brava, brava. Bella, bella, ma brava, brava, cara Gina, come se potessimo averti qui davanti a noi. Maurizio Riccardi mi diceva che... La particolarità è che la Repubblica di San Marino gli ha dedicato quattro francobolli. Quattro? Tra cui uno a cui lei teneva molto, che era quello con Madre Teresa di Calcutta. Che lei aveva un rapporto particolare e aveva anche donato più volte il suo cachet per trasmissioni a Madre Teresa. Silvana Giacobini, grazie Maurizio, apri un capitolo importante. La Lollo, intanto continuiamo a vedere le foto di Carlo Riccardi, guardatela qui che cos'è, insomma. Voglio dire, io a ogni fotografia ho il momento di mamma mia, quanto è bello. Ecco, quella borsa, quella borsa, la Lollo Brigida in silenzio, l'ha aperta molte volte Silvana. Era una donna generosa. Sai, per esempio, come di Alberto Sordi si diceva che fosse avaro, in realtà è stato generosissimo, soprattutto poi negli ultimi anni della sua vita ha lasciato degli imponenti rilasciti a persone bisognose o anche per beneficenza. E la vera beneficenza è quella silenziosa, quella di cui non si parla e magari si accetta persino che non venga riconosciuto e magari si accetta persino, come dicevo, l'accusa di non essere generosi. Ecco, questo è da sottolineare. Quello che forse farà ancora Gina sarà forse nel testamento di lasciare a dei bambini in bisogno, soprattutto africani, quello che potrà servire per farli mangiare per molto tempo. Me lo auguro che questo avvenga. Ce l'auguriamo che questo avvenga. Allora, una donna che diceva, io non ho il male appresso a me e quindi vedo il bene in tutti quelli che mi stanno attorno e gli altri proprio per questo se ne approfittano. Forse non è stata fortunatissima in amore, Sara. Forse ecco, la vita a questo non le ha dato tutto quello che lei avrebbe meritato da questo punto di vista. Lei ha avuto una carriera straordinaria e invece l'amore non è stato così, non l'ha ricambiata in questo modo. Addirittura a volte ho letto in un'intervista che diceva di non essere quasi mai stata amata. C'era stato un drammatico episodio nella sua giovinezza in cui aveva subito uno stupro. Una cosa che ha raccontato a 90 anni, quindi 70 anni per riuscire a dirla questa cosa. Spessiamo la vergogna delle vittime, terribile la sofferenza che suscita. E dopodiché aveva detto che mi ero sposata per dolore, per difesa, per dimenticare. Aveva sposato un medico sloveno, Milko Skofic, con cui il matrimonio è finito nel 71. E dopodiché l'amore vero non è mai arrivato. Adesso negli ultimi anni ha avuto un po' di sfortuna, c'è questa vicenda ancora in ballo. Però forse era più sorridente, diciamo così, nell'ultimo tempo della sua vita. Forse era più sorridente, di sicuro non è stata così fortunata in amore, purtroppo. Con il grande Carlo Riccardi, Maurizio, suo figlio, qui con noi. Bene, le fotografie però lei è sempre... sapeva di essere fotografata dal tuo papà. Che l'ha sempre fotografata anche in momenti così diversi della sua vita. Ecco, quello però, quell'immagine che rimane è l'immagine di una donna che sa di essere chi è. Possiamo dire questo almeno. Per parlare dell'amore, è vero, ha avuto gli amori personali che sono stati difficili, anche quelli familiari. Però ha avuto un grande amore del pubblico. Pensiamo che ha avuto più di 6.000 copertine. Quindi immaginate i fotografi da papà, Carlo Riccardi, Marcello Geppetti, tantissimi altri fotografi, Rino Barillari. Era una miniera d'oro. Dove passava la loro, sì. Era anche una miniera d'oro perché aveva dei gioielli bellissimi, bulgari, delle cose fantastiche, degli orecchini bellissimi. Poi amava il bello anche nella moda, nell'arte. Quindi è rimasta premiata, secondo me, la grande eredità che dovrebbero capire le persone che le sono vicine è proprio la ricchezza di questa donna nel campo culturale e artistico. Bravo, Maurizio. Scusana Giacobini, l'amore del pubblico. Beh, per tutti gli anni di Gina Lollobrigida, da quando lei è diventata tale, su questo non c'è dubbio. Forse il pubblico, inteso come entità, non l'ha tradita mai, non le ha mai dato dolori e giustamente le ha tributato, e continuerà a farlo per sempre, amore totale e completo. Amore senza gelosia. Amore e fantasia. Amore, amore, amore. Beh, questo è quello che è il più grande premio per un artista. Sai, può in qualche maniera consolare e riempire un vuoto che nella vita quotidiana, concreta, personale, a volte si palesa, soprattutto per donne molto importanti che hanno avuto un enorme successo nella vita dello schermo, nell'arte. E quindi questa è un po' la cifra che raccoglie il ritratto di una Gina intimista che non è soltanto la diva internazionale amata da un pianeta intero. Non esagero, ma così è stata. E chi lo sa, se questo dal cielo lei ci dice che è vero e lo apprezza. Ma di sicuro adesso giustamente è entrata, cioè adesso, non è entrata nel mito adesso, è stata un mito per tutta la sua vita e adesso rimangono i suoi film, le sue immagini, la sua simpatia, quella risata così grande, così forte. Giancarlo Giannini nei giorni scorsi ha detto quella risata che arrivava subito diretta, non aveva filtri. Io ringrazio Sara Ricordati, giornalista di gente e critica cinematografica. Ringrazio Maurizio Riccardi, grazie, le ricordo, non solo per il suo lavoro, ma le ricordo di suo padre, il grande Carlo Riccardi. Ringrazio Silvana Giacobini per la grazia infinita che ci regala sempre. E chiedo per favore alla nostra regia di chiudere con una fotografia, proprio dritta dritta così, della donna più bella del mondo. Gina, Gina Lollo Brigida, la Lollo, così come tutti noi la conosciamo. e continueremo a conoscerla. Grazie a tutti.